Secondo me si deve iscrivere, deve tentare il bando del Pucco Corso, quindi tentare di farci alla soltanto chi ha una grande passione per il cinema e chi pensa di poter dire qualcosa di nuovo, possibilmente una certa curiosità su quello che è stato il passato del cinema, quindi conoscere i grandi classici, perché non si può ammirare solo Kent in Tarantino, devi conoscere anche Murnau, devi conoscere Fritz Lang, anche se no non capisci, per esempio, la forma dell'acqua, se non hai visto Fritz Lang o Murnau ti sembra una stupidaggine, però quel film è una citazione di tutto quel periodo, di quei grandi film, e poi soprattutto bisogna avere un proprio linguaggio che va chiaramente alimentato e va sperimentato durante la scuola, però ci vuole una grande curiosità, un grande amore, una grande passione, un grande slancio verso il cinema, mai copiare gli altri, mai imparare dagli altri alcune cose e poi a rielaborarla in modo tuo, quindi essere originale, però la passione è prima di tutti.